Un saluto affettoso davvero mi riguarda tutte le regole di parlamento con cui vi consigliamo che è un lavoro forte, direi più stelle, è un tanto turmo e rivolgo a un particolare trasferimento, che abbiamo un gruppo di giorni per me, è un piacere che io oggi qua ci accompagneranno anche il mio lavoro che sia da voi veramente una giornata utile che direi anche quel che facciamo, anche dopo il saluto in Italia, poi ci si discute a piedi dalle questioni che crede nelle nostre sedi istituzionali. Vorrei esprimere la mia donna un'eventudia ad ognuno per mettere il senso. Il mio grazie per in particolare agli autorevoi e relatori che sono intervenuti e che interveneranno a questo diciannovesimo. Dico diciannovesimo e lo rimargo, perché vedete, è l'eventudio al luar che noi organizziamo sul dialogo inter religioso. E io sono orgoglioso di appartenere il gruppo del frattempo a Romero, perché siamo noi lo occupo di fare questo lavoro, non vedo altri tutti che si occupano di questo argomento così come facciamo noi, come frattempo a Romero. Quindi sono orgoglioso di appartenere il gruppo a Romero, sono orgoglioso di appartenere il gruppo a Romero, sono orgoglioso di appartenere il gruppo a Romero.